Buonasera amici di Stato del Calcio Spagnolo, benvenuti a un nostro nuovo podcast, oggi parliamo di Mondiale Under 20, in questi giorni si sta disputando l'edizione in Argentina, edizione 2023, la finale sarà Italia contro Uruguay, si disputerà domenica sera, quindi staremo a vedere chi saranno i futuri campioni del mondo giovanili. Nel 99 si disputò in Nigeria l'edizione del Mondiale Under 20 e a trionfare fu la Spagna di Xavier Casillas, ovviamente noi ricordiamo questa edizione non solo per la vittoria spagnola ma anche per la qualità degli altri giocatori presenti in questo torneo perché in molti ebbero poi una più che discreta carriera da professionista. La Spagna si era qualificata a quel Mondiale arrivando terza nel girone dell'Europeo del 98, l'Europeo Under 18, la fase finale si era disputata a Cipro in due gironi da quattro e di quelle otto squadre ben sei andarono al Mondiale Under 20 l'anno successivo. Quell'edizione dell'Europeo Under 18 fu vinta dall'Irlanda di Roby King, l'Irlanda di Roby King che batteva in finale la Germania, Portogallo e Croazia, le altre due semifinaliste furono anch'esse qualificate al Mondiale successivo, così come la Spagna e l'Inghilterra che anch'essa arrivò terza nel proprio girone. Come abbiamo detto, quel Mondiale Under 20 fu organizzato in Nigeria e a partecipare furono 24 squadre, fra gli europei ci furono alcuni giocatori interessanti, per esempio nella Germania troviamo Timo Hildebrand, il portiere che poi giocò anche a Valencia. Nella Croazia c'era il portiere Pleticosa che ebbe una lunga carriera, fu un lungo portiere titolare della nazionale e poi troviamo anche due attaccanti che fecero una carriera in Italia, per esempio Igo Budan e Sasha Benalovic che molti ricordiamo a lungo in serie B, serie A e vestirono numerose squadre. Fra il Portogallo la stella era invece Simao Sabrosa, considerato in quel periodo l'erede Luis Figo, infatti fu acquistato appunto dal Barcellona nel 99, però non mantenne male promesse, ritorna in Portogallo dopo due anni e poi giocò anche in Spagna con Atletico Madrid e Spagnol, però non mantenne male promesse in inizio carriera. Comunque in quel momento era la grande stella del Portogallo, mentre l'Inghilterra potevano vantare due giocatori di spessore come Ashley Cole e Peter Crouch, lo spilungone centravanti che poi entrambi a lungo in nazionale assieme. Tra le sudamericane ovviamente la grande squadra favorita era l'Argentina, l'Argentina che veniva da trionfare nelle due precedenti edizioni, sempre con Peckerman in panchina, l'Argentina capitanata da Esteban Cambiasso che era il leader di quella generazione, con lui c'erano anche altri giocatori interessanti tipo Gave Milito, Luciano Galletti, Federico Insua, Daniel Montegrendo, quindi l'Argentina era una delle favorite assieme al Brasile ovviamente perché il Brasile innanzitutto era fresca di vittoria nel mondiale anni 17, dei due anni prima. La stella di quel Brasile era Ronaldinho e poi c'era un altro giocatore che giocò anche in Italia, che era Matulsalem, che era il faro del centrocampo. Non solo Ronaldinho, Matulsalem, c'era il portiere Giulio Cesar per esempio, anche se non era lui il titolare di quella Under 20, Giulio Cesar ricordiamo con l'Inter, c'era Amantino Manzini che giocò a lungo con la Roma e anche con l'Inter, poi Juan, difensore anche con la Roma e poi ecco abbiamo detto Matulsalem, c'era anche Fabio Bilica che lo troveremo in Serie A qualche anno dopo. Fra i basiliani ce n'era qualcuno che poi venne in Spagna, nella Liga, Fabio Aurelio per esempio giocò a Valencia, Terzino, l'attaccante Edu giocò con il Celtavigo e poi ecco ci fu Fernando Baiano che giocò anche lui con il Celtavigo. Ma fra le sudamericane non c'era solo Argentina e Brasile ma c'era anche l'Uruguay, per esempio l'Uruguay di Diego Forlan, di Javier Sevanton, di Fabian Carini, il portiere che anche lui venne in Italia. Nell'Uruguay troviamo anche Canobbio, Fabian Canobbio, centrocampista che giocò con il Valencia, poi c'era anche Diego Perez, un altro centrocampista che nel finale di carriera vestì la maglia del Bologna. La quarta sudamericana era invece il Paraguay che anche il Paraguay poteva contare su una discreta generazione, Nelson Cuevas, c'era Salvatore Cabagna, c'era Paolo La Silva, difensore, soprattutto c'era la stellina Roque Sant'Arcuz che all'epoca aveva solo 17 anni ma già stava facendo intravedere lampi di genio che poi lo porteranno a giocare a lungo in Europa, soprattutto in Germania con il Paese di Monaco. Anche le africane non scherzavano perché troviamo, per il padrone di casa nella Nigeria c'era Babangida e Okunovo, per esempio, che giocavano in Spagna con il filiale del Barcelona, anche se non ebbero poi alla fine una grossa carriera, però in quel momento considerati soprattutto a livello giovanile dei giocatori di spessore. Fra la Nigeria, ecco, due difensori ebbero una carriera interessante, Afolab e Iobo, Iobo lo ricordiamo a lungo pilastro dell'Everton di Devin Boyes in Premier League e giocò addirittura a tre mondiali, quindi insomma fece una discreta carriera. Fra le altre africane, ecco, altri nomi, per esempio il Ghana, c'aveva Appiae o Foriquaie, il Mali, Mamadou Di Arra, che giocò anche con il Real Madrid, Saeedu Keita, per esempio, il Pilastro e il Barcellona di Guardiola. E' votato poi alla fine del torneo il miglior giocatore di quel mondiale del 20. Poi c'era il Camerun, Camerun che poteva contare su Cameni, Portiere, Mbami, due giocatori che poi faranno parte anche della nazionale olimpica, che nel 2000 vinse l'Olimpia di Sidney, un oro storico, un'impresa incredibile per il Camerun. C'era appunto, ecco, Cameni era il giocatore di spicco, Cameni che poi giocò, ecco, in Spagna, a lungo con l'Espagnol e anche con il Malaga. Fra le altre squadre in Lizza troviamo anche l'Australia, che poteva contare su Grella e Bresciano, che poi aveva una lunga carriera in Italia, così come David Suazzo, l'attaccante dell'Honduras. Poi c'era gli Stati Uniti, potevano contare su Tim Mowar, dei Portiere, e poi c'erano le altre due Asiatiche, che erano Giappone e Corea, che ecco, c'erano giocatori tipo Inamoto, Ono, Kojinakata, per esempio, che furono convocati per il Mondiale del 2002, e anche alcuni coreani, per esempio, come Sol Kiyon o Song Jong-guk, che fecero parte della nazionale allenata da Hiding sempre nel Mondiale del 2002. Una parentesi va aperta anche per il Messico, il Messico che era capitanato dalla stella Rafa Marquez, qui trovano un altro giocatore mitico, che è a lungo in Europa, con il Monaco e con il Barcellona, Rafa Marquez, storico giocatore del Messico. Con lui c'erano anche, per esempio, Danilo Sorno, Gerardo Torrado, quindi giocatori che poi avevano una lunga e importante carriera, anche da grandi, non solo a livello giovanile. La Spagna non era la prima volta che partecipava a un torneo mondiale del 2020, ma già l'aveva fatto, anche se non aveva lasciato grosse tracce del suo passaggio. Solo nel 1995 i spagnoli erano fatto un più che discreto mondiale, erano arrivati in finale. L'edizione del 1995 si disputò in Unione Sovietica e che vide la Spagna arrivare in finale contro il Brasile. In quella Spagna c'erano, per esempio, il potere Unzue, Unzue che poi giocò anche con Sevilla, con Barcellona. Insieme a lui il secondo era Lopeteghi, attuale tecnico di Von Verhampton, ex allenatore di Nazionale, di Granadì, di Sevilla, per esempio, tra le altre. Il giocatore chiave di quella squadra era Fernando Colomer, bandiera del Valencia, poi c'erano l'ala destra Andonico Igocea, per esempio. C'era Marcelino Garcia-Toral, che molti lo ricordano, soprattutto per la sua parabola di allenatore, ma in realtà era un giocatore che prometteva a livello giovanile, anche se non ebbe una grossissima carriera. Però ecco, in quel momento era all'inizio di Nazioni Giovanile. Con loro anche Naim, l'ispano-marocchino Naim, che lo ricordiamo tutti, il gol di Naim nella finale di Coppa delle Coppe del 1995 fra Saragossa e Arsena. Ma Naim, che era passato appunto per le giovanili di Barcelona all'epoca, e poi aveva giocato anche in Premier League con il Tottenham. Successivamente la Spagna, ecco, arrivò lontano anche nel 1995, quella era la Spagna della generazione di Michel Salgado, Moriente, Seceveria, Delapegna e soprattutto Raul González Blanco, e la Spagna era stata sconfitta in semifinale dall'Argentina. Nel 1997 invece la squadra allenata da Goi Gocea fu sconfitta dall'Irlanda nei quarti di finale. Quindi una Spagna che, se erano viste le cose interessanti nelle elezionali giovanili, per esempio ha vinto l'europeo Under-16 nel 1997, in finale con l'Austria. Un europeo Under-16 che era finito ai rigori e quel giovane portiere che difendeva la pali di quella nazionale fu il protagonista, quel giovane portiere si chiamava Ikel Casiglia e parò ovviamente il rigore recessivo. Successivamente Casiglia formò parte anche della nazionale Under-17 che disputò un buon mondiale in Egitto nello stesso anno. In quella squadra c'era anche Xavi, per esempio, oltre che Casiglia e c'erano i giocatori importanti che poi si persono su tutti i centravanti David Rodriguez Fraile e scuola Real Madrid che fu il buon bel caponele mondiale però non arrivò mai a giocare professionista. La Spagna ricordiamo che era allenata da Iñaki Saez che era un maestro delle giovanili in quegli anni e i 18 che aveva portato Iñaki Saez erano Aranzu Bia, il portiere Casiglia poi c'erano i difensori Pablo Coira, David Bermudo, Francisco Cusue poi troviamo anche Carlos Marcena centrocampisti Pablo Baez, Xavi, Gabri, Colza, Gonzalo Colza Francisco Ieste, Fernando Varela, Giuseppe Achero e Alvaro Rubio gli attaccanti sono invece Pablo Cugnago Ruben Sanchez e David Aganzo e Alex Lombardero quella squadra praticamente c'era le idee chiare fin dall'inizio perché la squadra giocava con un 4-2-3-1 c'era Aranzu Bia in porta a difesa con Coira, Marcena, Josue e Bernardo poi c'era Obaiz davanti alla difesa Xavi era il regista Gabri giocava fra le linee e poi c'erano Varela a destra e Barchero esterni alti con Pablo Cugnago punta unica quindi diciamo l'unice cittolare era fatto e ovviamente aveva portato dei riservi in grado di cambiare qualcosa in corso della partita per esempio Ruben Suarez praticamente era la riserva di Barchero Aganzo quella di Pablo Cugnago Lombardero faceva rifiatare Varela sulla fascia destra poi c'era Colza e Rubio che erano incaricati dai cambi a centro campo Ieste invece era il supplente di Gabri nel ruolo di mezza punta andiamo alle fasi all'inizio del torneo alla fase a Gironi allora partiamo subito con il girone A quello che comprendeva Paraguay, Nigeria, Costa Rica e Germania il Paraguay esordì perdendo per 4-0 con la Germania però i sudamericani poi alla fine riuscirono a vincere il gironi vincendo le altre partite mentre la Germania perse le altre due e finì quindi ultima nel girone B invece troviamo il Ghana vinse il Ghana qua c'è l'Argentina che deluse un po' le attese perché è campione in carica invece si qualificò solo come miglior terza la Gigi Celeste vinse una sola partita quella con il Kazakistan un successo in misura 1-0 con un gol di Kambias poi ci fu la sconfitta con il Ghana e il pareggino 0-0 con la Croazia quindi Ghana prima, Croazia seconda Argentina terza agli ottavi nel girone C invece troviamo la vittoria del Messico davanti alla Repubblica d'Irlanda terza all'Australia e quarto l'Arabia Saudita il gruppo D fu più incerto anche se ecco fu dominato dal Mali che perse solo l'ultima partita contro la Corea del Sud contendosi il secondo posto furono Portogallo e Uruguay alla fine arrivò secondo il Portogallo per miglior differenza a reti sui sudamericani passiamo al girone e quello anche questo è stato abbastanza incerto e ci fu subito una sorpresa qua nel girone perché l'Inghilterra andò a casa con 0 punti, 0 gol segnati e 3 sconfitte sul gruppone in quel girone a vincere, a passare come primo fu il Giappone davanti a Stati Uniti e Camerun, arrivano tutte e 3 a pari punti, a 6 punti e il Giappone si qualifica per miglior differenza a reti ma andiamo al girone F, quello della Spagna Spagna che risordì battendo il Brasile 2 a 0 con un gol di Gabri, una doppietta quel successo fece salire le azioni della Spagna perché non si conosceva bene il valore della Roquita come è chiamata la nazionale giovanile spagnola e in realtà quel successo fece salire le azioni della Spagna perché in quel momento si capì il vero valore della nazionale spagnola mentre fino a poco prima non si sapeva bene come avrebbe risposto la squadra delle furie rosse quindi Brasile partì con una sconfitta mentre nella partita lo Zambia si impose 4 a 3 su Londurias la seconda giornata vede lo Zambia pareggiare con la Spagna 0 a 0 una partita che fu giocata con 40 gradi e che mise fisicamente a dura prova i spagnoli perché arrivarono stravolti a fine gara mentre il Brasile batte tra 0 l'Honduras con un doppietta di Edu e un gol di Matupo Salem ovviamente abbiamo parlato di temperatura, di 40 gradi una delle cose con tant'istinze in negativo in Mondiale e Nigeria furono le condizioni climatiche caldo e insopportabile, 40 gradi poi alternato a piogge torrenziali che spesso causarono addirittura interruzioni di elettricità per esempio anche durante i quarti fra Ghana e Spagna ci fu un'interruzione della luce poi durante il Mondiale ci fu pure un focolaio di colera a Cano, una delle sedi delle gare con una ventina di morti fra la popolazione locale quindi ecco le condizioni climatiche anche le condizioni di vitto alloggio lasciarono molto a desiderare molti giocatori durante il torneo accusarono la fatica qualcuni si ammalarono, si influenzarono sono costretti a saltare la partita per esempio Xavi saltò la terza gara per febbre e forti mal di gola per esempio fra i Spagnoli una Spagna che comunque nonostante giocò ridimensionata riuscì a battere l'Honduras 3 a 1 certificò la qualificazione come prima del girone mentre sull'altra gara il Brasile stracciò lo Zambia un 5 a 1 che alla fine pesò sul conto finale perché lo Zambia non riuscì a qualificarsi come migliore terza in vitto proprio della differenza reti a sfavore quindi si stabilirono gli ottavi di finale e molte squadre come abbiamo detto pagarono un po' le condizioni climatiche e una delle scuse che argomentarono gli irlandesi fu proprio ecco il fatto di aver dovuto giocare per 120 minuti con la Nigeria una temperatura insopportabile e l'Irlanda fu eliminata ai rigori dopo l'1 a 1 dei tempi regolamentari sendo rigori la Nigeria batte gli irlandesi secondo gli irlandesi quello che dichiararono all'epoca avrebbero dovuto vincere se non fosse stato per le condizioni climatiche mentre poi nelle altre gare il Ghana si impose facilmente sul Costa Rica 2 a 0 mentre Paraguay e Uruguay fu una partita spettacolare perché c'era Antonio Forlano che portavano in vantaggio alla Ceneste 2 a 0 sembrava fatta poi una doppietta di Rock Santa Cruz permise al Paraguay di acciuffare il pari quindi la sfida poi andò a rigori una lotteria che si diventò eterna perché un giro di rigori non fu sufficiente quindi si rincominciò di nuovo e stavolta il miglior giocatore del Paraguay sbagliò Rock Santa Cruz e consegnò il gol decisivo il match point all'Uruguay con Canobbio che segnò quindi passò all'Uruguay mentre il Brasile si sbarazzò facilmente della Croazia 4 a 0 con doppietta di Ronaldinho nell'altra parte del tabellone ci fu anche qua all'insegna dell'equilibrio perché Giappone-Uruguay finì 1 a 1 e anche lì si andò a rigori fu decisivo l'errore di costa per il Portogallo anche il derby africano fra Mali e Camerun fu emozionantissimo perché terminò 4 a 4 e nei tempi supplementari Dissa segnò il gol decisivo quindi 5 a 4 per il Mali e poi l'altro derby fu Messico-Argentina anche qua ci si aspettava che l'Argentina passasse invece ecco dopo i vantaggi Galletti il Messico ribaltò e si impose 4 a 1 quindi una trascinata da un superbo Rafa Marquez il Messico si impose sull'Argentina la Spagna vinse 3 a 2 contro gli Stati Uniti una partita iniziata subito in discesa per gli spagnoli perché una doppietta di Pablo Cognago primo tempo un gol di Chavi 3 a 0 poi nella ripresa tirarono un po' il freno a mano un po' per il fatto del fisico insomma condizioni fisiche la stanchezza e gli Stati Uniti accrociarono le distanze però il 3 a 2 fu marcato al minuto 90 quindi oggettivamente la partita non fu mai il risultato non fu mai in pericolo per la Spagna quindi passiamo ai quarti finali anche qua ci furono tantissime sorprese furono all'insegna dell'equilibrio più totale perché il Messico a questo punto faceva paura a tutti aveva già eliminato l'Argentina però ai giapponesi non gli fece paura quindi si impose il Giappone per 2 a 0 forse la sfida quella meno chissà più vittoria più chiara perché il Giappone segnò già il quarto minuto con Motoyama poi raddoppiò il 24esimo quindi 2 a 0 e la partita poi non fu mai messa in discussione Mali-Nigeria un altro derby africano vinto 3 a 1 dal Mali e poi ci fu Uruguay-Brasile 2 a 1 anche qua il Brasile sembrava la chiara favorita passò avanti con Fernando Baiano ma l'Uruguay era una squadra tosta con molta personalità con molta gara a cia a rua e ci fu il pareggio con un golasso al limite di George Hankon che ristabilì la parità si arrivò verso il finale di gara e ci fu un'incursione in area di Pellegrin e Amantino Manzini commise il rigore il rigore è dubbio onestamente vedendo le immagini però ecco fu fissiato questo rigore fu trasformato da Canobbio per il definitivo 2 a 1 era al minuto 86 quindi non ci fu più tempo per Ronaldinho e compagni di rimontare la Spagna giocò con il Ghana e soffrì tremendamente perché passò in vantaggio con Barchero quindi fu il rosso in avanti il forse del Ghana portò i frutti al minuto 90 con una punizione di Oforiquaia e c'entrò in pieno volto il compagno di squadra Tutuadu e ingannò Casillas che quel giorno giocò al posto di Aranzubia questo dato non è da meno che giocò Casillas perché la Spagna si andò ai calci di rigore e quindi iniziò la sfida con segnare Rosciavi Lombardero Ieste però Gabri sbagliò il quarto tiro quindi il quinto della Spagna lo segnò Gesùè però il Ghana arrivò al quinto tiro con un match ball a propria disposizione sul discreto si presentò il capitano Amsa però tirò un missile che sentò con la traversa quindi Casillas portò Fortuna poi si ritornò a tirare l'ultimo tiro segnò Varela per la Spagna e poi però Casillas però il tiro di Vlai quindi Saniker iniziando a fare miracoli anche nei mondiali giovanili poi un aneddoto perché quella parata non fu vista da nessuno la parata decisiva di Casillas fu oscurata perché il segnale di televisione si interruppe proprio qualche secondo prima della parata quindi si arrivò alle semifinali Mali Spagna Uruguay Giappone anche qua il pronostico probabilmente spingeva per una vittoria dell'Uruguay invece il Giappone ha impreso un ritmo incredibile passo in vantaggio con Tahara c'è Vanton pareggio subito e poi ci fu il gol di Nagai al minuto 35 il Giappone mantenne il 2 a 1 fino al fondo la Spagna invece passò subito in vantaggio con Varela dopo appena due minuti al minuto 26 ancora Varela raddoppiò poi nella ripresa ecco ci fu questo calo fisico il Mali accorciò le distanze con Dissa poi alla fine ecco Xavi riuscì a trovare al minuto 90 il gol della liberazione nel 3 a 1 il 3 a 1 Xavi che fece un partitone ci fu un aneddoto anche in questo caso un aneddoto climatico perché mentre il Mali spingeva per il pareggio nel secondo tempo il tempo venne in aiuto la Spagna la Spagna ci fu una pioggia che rinfrescò un po' con l'aria e quindi i spagnoli ne beneficiarono quindi si arriva a questa finale una finale inedita perché sì la Spagna non aveva giocato una finale però non aveva mai vinto mentre il Giappone era la prima volta che ha detto un'asiatica e così si qualificava per la finale del Mondiale Under 20 quel Giappone era allenato da Trussier che era poi che fu allenatore anche del Giappone nel Mondiale del 2002 che si è preso Francesco Trussier che si è preso carico di tutte le nazionali anche delle giovani dei giapponesi un progetto che portò il Giappone a fare diciamo bella figura al Mondiale del 2002 anche se non arrivò lontano come fece la Corea del Sud però quantomeno non ci sono macchie non ci furono macchie sul cammino del Giappone per gli aiuti arbitrali che invece la Corea beneficiò e come basta ricordare la partita contro l'Italia e contro la Spagna quindi qua fino a qua apriamo e chiudiamo la parentesi sul Mondiale Coreano del 2002 ovviamente la vigilia c'era molto attesa anche in Spagna perché ecco Xavi era stato già nominato il giocatore crack mondiale quello che poi sarà anche per i successivi anni col Barcellona e con la Nazione Spagnola però già in quel momento in Spagna si iniziava a capire che questa generazione diciamo o parte di questa generazione avrebbe potuto fare molto bene anche a livello anche nel calcio dei grandi non solo a livello dei giovanili quindi ecco c'era molta attesa anche i media spagnoli i giornali ecco iniziano a dedicare sempre più spazio a questa a questa Spagna under 20 poi si arrivò alla finale ecco la Spagna giocò in formazione tipo come abbiamo detto perché Aranzu ritornò fra i pali e la partita paradossalmente fu molto più facile del previsto perché la Spagna dopo tre minuti passò in vantaggio perché il portiere Minami si impappinò su un rinvio quindi punizione a due gol di Barchero gli spagnoli si dimostrano sia tecnicamente che fisicamente superiori al minuto 14 Xavi ricevette palla a centro campo che fece un lancio telecomandato che mise Pablo Cugnaro davanti alla porta 2 a 0 e praticamente chiusa dopo un quarto d'ora la partita gli uomini di Gnaki Sais non ebbero nemmeno pietà dei colleghi giapponesi perché alla mezz'ora Pablo marcò di nuovo 3 a 0 poi nella ripesa Gavri segnò il definitivo 4 a 0 quindi non ci fu praticamente partita fu diciamo quasi una formalità alla finale fra la top 11 stilata dalla FIFA allora innanzitutto Ketà fu votato il miglior giocatore del mondiale Liano Ketà che poi ricordiamo fu uno dei giocatori chiave del Barcellona anche se non titolare ovviamente in quel Barcellona di Guardiola però fu un giocatore che quando entrava faceva sempre il suo e c'era abbina la quantità e qualità quindi fu un ricambio di lusso di quel Barça di Guardiola andiamo alla top 11 di quel mondiale troviamo porta il portiere Carini dell'Uruguay poi c'è una difesa con Paolo della Silva del Paraguay Rafa Marquez ovviamente del Messico e Marcena della Spagna centrocampo Xavi della Spagna e Keita del Mali poi ecco qua è stata un po' improvvisata ovviamente questa è la top 11 ufficiale stilata dalla FIFA non la nostra troviamo a destra nell'attacco più Sikedia della Nigeria poi Ono del Giappone nel ruolo di mezzapunte Motoyama sempre del Giappone nel ruolo di esterno sinistro poi gli attaccanti Paolo Cugnago della Spagna e Eufori Quagli del Gana Paolo Cugnago che fu anche il capocannoniere di questo di questo mondiale ma andiamo ecco abbiamo parlato del torneo adesso andiamo a parlare della Spagna Spagna in sé per sé analizziamo un po' i nomi partendo dall'allenatore con il bibaino Iñaki Saez che da giocatore fu terzino destro dell'Atletic Club vestile maia del quadro bilbaino dal 62 al 74 fu One Club Man perché giocò solamente a Bilbao e per lui 263 apparizioni in liga ed allenatore ecco iniziò la sua carriera allenatore fu legata principalmente all'Atletic Club allenò a lungo la cantera la scuola filial fece qualche capatina in prima squadra spesso come traghettatore una cosa simile a quella che fece Vicente del Bosch prima di prendere mano il Real Madrid definitivamente nel 99 anche lui provò qualche avventura fuori da Bilbao con l'Alba Sete con la Spalma fondamentalmente ecco il suo ruolo con i giovanili fu impeccabile nel 97 entrò ecco definitivamente nei giovanili e vinse il mondiale prima nel 21 con la Spagna e poi ecco mondiale under 20 nel 99 argento alle Olimpiadi del 2000 europeo under 19 nel 2002 nella stessa anno in cui fu affidata la selezione la prima squadra al posto di Camacho ovviamente la sua parentesi con la nazionale maggiore non fu chissà che perché la guidò nel bienio 2000-2004 la portò all'europeo del 2004 però l'europeo del 2004 si è concluso in malo modo con la Spagna eliminata nella fase Gironi e lui ecco si dimise poco dopo ritornò nell'anno del 21 che la guidò fino al 2008 abbiamo visto in precedenza la rosa andiamo a analizzare nome per nome il portiere Nanzubia per esempio all'epoca era con la squadra B dell'Atletic Club una squadra filiale ma praticamente l'anno successivo passò in prima squadra come riserva di Gnacchilacue la Fuente poi dal 2002 diventò il titolare dell'Atletic Club nel 2008 passò al Deportivo della Corugna e poi si ritirò dopo una stagione all'Atletico Madrid nel 2014 nel 2011 saltò alle cronache perché segnò contro l'Almeria all'epoca era con lui stava difendendo la porta del Deportivo segnò di testa contro l'Almeria quindi si convertì nel primo portiere a marcare un gol su azione nella Liga in precedenza altri portieri avevano segnato nella Liga però quasi tutti fra rigore e punizioni lui fu il primo a farlo su azione ricordiamo Cilavest per esempio o Prats portieri che erano andati in gol però lui fu il primo a farlo in azione l'altro portiere ovviamente non c'è bisogno di presentazioni perché si tratta di Casillas Casillas che era la riserva di quella under 20 ma ricordiamo all'epoca non aveva compiuto nemmeno 18 anni era il più piccolo della rossa della Spagna quindi ancora doveva debuttare con il Madrid però il fatto che già lo chiamassero a integrare un gruppo con giocatori due anni più grandi di lui già la diceva a lunga su come fosse tenuto in considerazione nelle giovani di Spagnoli quindi Carriera Casillas c'è poco da aggiungere basta dire ecco che fu il lungo capitano di Real Madrid se le stesse vinse praticamente tutto quello c'era da vincere passiamo adesso ai giocatori di campo Pablo Coira terzino destro Gallego di Pontevedra all'epoca giocava con il Compostela nell'estate del 99 passò al Celta Vigo dove rimase quattro stagioni inizialmente fu visto come erede di Michel Salgado che era passato al Real Madrid però ecco a Vigo non trovò mai continuità alterno campo e panchina non fu mai protagonista e quindi poi passò ad Alaves recreativo Huelva e poi scesse nelle categorie minori giocò anche all'estero con l'Arissalonic con l'ombe di Budapest però la sua carriera non rispettò mai le promesse un altro che ecco non ebbe grossa fortuna è David Bermudo terzino sinistro Canterano del Barcellona all'epoca lo giocavo il Barcellona poi passò alla squadra B al filiale del Barcellona debuttò in prima squadra in una partita di Coppa del Re però fondamentalmente non giocò mai nella Liga con il Barcellona passò subito al Tenerife poi giocò con Almeria Pontevedra Sabadella Badalona principalmente giocò in seconda B quindi la sua carriera fu un po' in discesa Francesco Giosuè era un promettente difensore centrale Navarro dello Sassuna aveva già debuttato in prima squadra in quel momento era una delle grosse promesse del calcio spagnolo in quel ruolo arrivò a giocare una trentina di partite di Liga sempre con lo Sassuna però fondamentalmente fu costretto ad andarsene da Pamplona per mancarsi di spazio giocò a Getafe giocò con il recativo Uelva e poi ecco scese nelle categorie minori rimanendo in Navarra troviamo il capitano di quella selezione Pablo Orbeiz che al contrario di Giosuè era già titolare con la prima squadra dello Sassuna e si confermò ecco anche nelle successive stagioni centocampista centrale mediano organizzatore di gioco nel 2000 poi venne acquistato dall'Atletic Club dove rimase 11 stagioni e diciamo la sua carriera fu un po' ostacolata da un paio di brutti infortuni però ecco ha giocato 263 partite di Liga quindi insomma ha fatto un'ottima carriera e ha giocato anche nazionale maggiore per esempio 4 partite e prima di apprendere le scarpette al Triodo giocò anche all'estero con l'Olimpia cose e con il Rubin Casane nel 99 Marcena Carlos Marcena giocava con il Sevilla e aveva già accumulato 30 presenze in seconda divisione perché all'epoca il Sevilla era in seconda divisione lui era canterano della squadra andalusa e in quel momento era considerato ancora un mediano davanti alla difesa anche se Ignaki Sais per quel mondiale andia a 20 lo portò al centro della difesa in quello che poi sarà il suo futuro ruolo ovvero difensore centrale successivamente solo sporadicamente giocò mediano però fondamentalmente la sua carriera si sviluppò come difensore centrale passò al Benfica nel 2000 dove è rimasta una stagione nel 2001 poi andò al Valencia dove praticamente si concentrò come leggenda della squadra valenziana e passò anche per il Villareale per il portatore da Corugna prima di tirarsi e con mezzo ci fu una vittoria da titolare nell'europeo del 2008 con la nazionale quella del mondiale con la selezione anche se nel 2010 già era stato scavalcato da piché nei titolari però lui comunque faceva parte del gruppo e attualmente è tornato a Valencia e fa l'allenatore fa l'assistente di Ruben Maraca il suo amico che hanno preso in mano ecco i due il Valencia in questi ultimi mesi per portarlo alla salvezza quindi è ancora nel giro anche se solamente come assistente Alvaro Rubio era all'epoca un canterano del Saragozza e fu il giocatore più sfortunato fra gli spagnoli perché si fece male nella terza partita contro l'Honduras e fu costretto a tornarsi a casa quindi non si godette in pieno il triunfo della della Rocchita la sua carriera si sviluppò fondamentalmente fuori da Saragozza perché a Saragozza aveva pochi spazi però si rifece una carriera prima con l'Albacete e poi a Valladolid e fu lungo capitano del Valladolid leggenda le parti di Pusela e la squadra gli è rimasta al Valladolid gli è rimasta a mettere nel cuore che adesso è rientrato nello staff tecnico era tuttora faceva parte dello staff tecnico di Pessolano e vanta 472 gare fra prima era divisione e seconda divisione quindi insomma una discreta carriera per Alvaro Rubio qua un altro che assieme a Casillas e a Marcena ha poco bisogno di presentazioni vediamo Xavi Hernández all'epoca aveva già giocato 17 gare a titolare col Barca anche se in quel momento in quei mesi ci sono state polemiche attorno a lui perché Van Gaal non si sa bene se per un atto punitivo o per fargli rimanere per farlo rimanere copiati per terra l'aveva rimandato al Barca B per il resto del campionato comunque Xavi come Casillas fece parte della generazione dorata del calcio spagnolo stiamo probabilmente parlando di uno dei 5 migliori locatori spagnoli i più forti di sempre della storia del calcio spagnolo quindi qua chissà magari in futuro se lo troviamo anche come allenatore della selezione adesso che lui ha iniziato a allenare ha già vinto una liga col Barca chissà magari se fa qualche anno non lo troviamo a dirigere le furie rosse chissà Gonzalo Colza è un altro giocatore culto per gli amanti della liga di inizio migli regno perché ecco fu un giocatore mitico del del Racing Santander si formò appunto con il Racing Santander si giocò poi all'Ogrognès con l'Aterrico Madrid con il Mallorca anche lui a Valladolid e ecco 2340 presenze in liga quindi insomma uno anche lui la carriera l'ha fatta ad alti livelli così come Ieste che è un altro giocatore che prometteva tantissimo un mancino fatato e una carriera caratterizzata da alti e bassi una traiettoria abbastanza irregolare perché c'aveva talento da vendere però la Superia fu alternò momenti di genio assoluto con altri frustanti alla fine nel 2010 se ne andò da Bilbao e nel 99 già aveva debuttato con l'Atleric però ecco uno dei giocatori che poteva chissà magari io lo paragono un po' a Guti quello che poteva essere stato Ieste magari ecco Guti lo stesso Guti era un giocatore incredibile che però non trovò mai spazio con la nazionale ecco con il Remadizzi ebbe una lunga carriera però fondamentalmente chissà magari avrebbe potuto dare molto di più Barchero invece rimanendo nei Paesi Vaschi Barchero o se Javier Barchero era alla sinistra della Real Sociedade era il gioiellino della cantera a Ciuri Urdin Mancino aveva già debutato in prima squadra rimasse con la Real Sociedade fino al 2006 anche se fondamentalmente alla noeta non riuscì a trovare mai grosso spazio fu mandato in presido spesso e non convince mai solamente a finale di carriera riuscì un po' a mettersi in mostra prima con l'Albasete poi con il Lumanze e infine con il Levante quindi va considerato che 59 delle 73 reti in carriera fero sognati dopo i 28 anni quindi ecco promettente poi ci fu una fase centrale di carriera con alti e bassi ecco poi un finale abbastanza buono per Barchero Varela invece era giocatore canterano del Betis all'epoca era una alla destra poi si convertì in terzino destro sapete perché perché dalla canteria del Betis uscì fuori una alla destra più forte più che riclamava spazio e quella alla destra era Joachim quindi Varela fu costretto a ridurre il raggio d'azione si convertì in un terzino destro di spinta spesso giocarono assieme Varela e Joachim soprattutto nella prima parte di carriera di Joachim quando era ancora il Betis e Varela non distegnava nemmeno le proiezioni offensive perché segnò un gol incredibile nel 2002 quando il Betis battì il basso 3-0 e Varela fece un gol che praticamente scattò tutti tanto che il teleconista lo definì un po' grotescamente il gol del siglo però fece un gol incredibile perché partì dalla pommetta a campo scattò tutti fino ad arrivare in aria sembrava che chiunque gli andasse incontro era immune ai difensori del Barcellona con il Betis vinse una Coppa del Re e vanta 257 in Liga quindi anche lui di carriera ne ha fatta Gabri era il soprannome di Gabriel Garcia e era insieme a Xavi la perla della cantera del Barcellona e soprattutto era probabilmente la stella di quell'Under 20 ancora anche forse anche più di Xavi era una mezza punta e fu subito promosso in prima squadra anche lui assieme a Xavi anche se le sue prestazioni furono abbastanza irregolari giocando in prima squadra del Barcellona nel 2003 poi dovuto a tanti infortuni in rosa fu costretta addirittura a giocare a terzino d'emergenza terzino destro quindi quel ruolo nemmeno possiamo dire tranquillamente nemmeno sfiguro poi nel 2004 un po' la sua veriera venne troncata da un infortunio di legamento da quell'infortunio non si riprese mai rimase a Barcellona fino al 2006 però fondamentalmente fra con pochi minuti sulle poche gambe nel 2006 fu ucciduto all'Ajax all'Ajax tornò a giocare e mezza punta però ecco non fu una grossa esperienza perché l'Ajax in quegli anni non vinse nessun campionato giocò addirittura in Svizzera poi ultimamente ecco una volta ritirato si è messo a allenare e l'ultima squadra è stata il Sabadelle il Sabadelle dove è stato esonerato lo scorso dicembre qua troviamo nella lista di attaccanti invece un giocatore che prometteva tantissimo all'inizio carriera era considerato la perla della cantera dello Sporting Chicon lui che è asturiano figlio d'arte perché il padre Koundi è una leggenda dello Sporting Chico parliamo di Ruben Suarez Ruben Suarez che prima dell'esplosione di David Villa ecco era considerato la grande promessa della leggenda dello Sporting in realtà poi Villa iniziò a reclamare spazio e Villa di un paio di anni più giovane e quindi Ruben Suarez iniziò ecco aveva già debuttato nel 99 aveva già debuttato in prima squadra con lo Sporting ma fondamentalmente anche lui come un po' come barchero fu costretto a cambiare area quindi passò all'Elce soprattutto nel finale carriera andò a Levante e debuttò pensate che debuttò in Liga nel già con 31 anni e non sfigurò perché sogna 13 gol in due stagioni e uno di questi questi gol fu speciale perché il 26 ottobre 2001 diede a Levante il primo posto in classifica fu lui a segnare gol decisivo nella sfida contro la Real Sociedad in quel momento il Levante si piazzò al primo posto in classifica anche davanti a Barcellona e a Ramadid e quindi una cosa che era mai avvenuta nella storia del club Granota quindi fra gli attaccanti ecco la destra la riserva di Varela era Alejandro Lombardero Alex Lombardero esterno destro che chissà fra i 18 di quella rosa è quello che ha avuto meno fortuna in carriera Gallego nato ad Artescio che ricordiamo è vicino alla Corugna che è un paese famoso per aver dato in Natalia ad Arsenio Glesias il mitico allenatore del deportivo Lombardero all'epoca giocava con il Lugo in seconda B però era già nel taccuino di numerosi club alla fine decise di andare al Merida di accettare l'offerta del Merida chissà forse magari pensando che un salto direttamente a una squadra della Liga magari avrebbe giocato meno però ecco in realtà la squadra del Merida è da retro CS quindi Lombardero intraprese delle scelte un po' sfortunate perché ecco andò a finire all'Atletico Madrid però poté giocare solo con la squadra B poi ecco proseguì la carriera in praticamente in seconda B e poi ecco dopo essere stato matoriato da infortuni da problemi fisici si accorse ecco scoprì di essere affetto di una patologia generativa alle anche che lo costruisse a far superare e implantare due protesi quindi carriera praticamente finita la sua storia è un po' triste perché in una intervista che ha fatto alla Vos de Galicia praticamente raccontò che è arrivato persino ad odiare il calcio in quanto mi immagino ecco che abbia sofferto il fatto di vedere i propri compagni di squadra arrivare a alti livelli lui magari ecco la sfortuna di non essere potuto arrivarci quindi in quell'intervista raccontata un po' la sua storia il fatto che in quel momento si era trasferito in Extremadura e stava vendendo i biglietti della Onze la lotteria spagnola poi però l'amore del calcio è subentrato è ritornato e quindi ha preso prima il titolo di allenatore adesso forma lui stesso un nuovo allenatore in più si è messo a gestire alcune scuole calcio alcune anche all'estero negli Stati Uniti quindi Alex Sombardero è riuscito un po' a ritrovare la propria strada sempre attaccato al mondo del calcio quindi facciamo anche un grosso bocca al lupo e poi troviamo la punta centrale di quel il capo canoniare di quel mondo di grande eventi anche lui ebbe una carriera inferiore a quanto pronosticato Paolo Cugnago era anche lui gallego proveniva dal settore giovanile del Celta Vigo e in quella stagione era stato mandato in prestito al Numanze in seconda nella stagione successiva ci fu un'altra prestito al Regativo Velba e poi nel 2001 tornò di nuovo alla base Celta Vigo però giocò appena otto spezzoni di gara quindi all'epoca rifiutò il rinnovo di contratto perché vide poche chance future con il Celta Vigo quindi iniziò un po' a girovagare e finì all'Ipswich in Premier League e là diciamo i numeri non furono eccezionali quantomeno in Premier League però poi quando la squadra era tocessa in Championship Cugnago iniziò a segnare con regolarità iniziò a capurare e alla fine rimase la otto stagioni quindi si convertì un po' in un idolo dei tifosi e poi giocò anche col Malaga due stagioni in prestito col Christos Palace giocò a Hong Kong in Finlandia a fine carriera nel 2016 fu protagonista non voluto di una polemica a distanza con Roy Keane perché Roy Keane era uscito in quei mesi la sua seconda biografia intitolata The Second Half e ovviamente Roy Keane è uno che per i nella lingua non ne ha quindi ne sparava su tutti i colori su Pablo Cugnago che ovviamente rispose a tono per quanto riguarda le parole di Roy Keane quindi ci fu una polemica a distanza fra i due Roy Keane che era stato allenatore dell'Ipswich diciamo la carriera di Roy Keane come allenatore non fu un gran che però ecco nel suo libro ha sparato un po' a zero su Pablo e su altri giocatori quindi non l'ha presa anche bene il giocatore spagnolo l'ultimo della rosa il diciottesimo giocatore della rosa fu Davide Aganzo canterano del Real Madrid Aganzo che riuscì anche a debuttare con i Blancos in prima squadra in una gara di liga contro il Valencia per lui ecco ci furono quattro spezzoni con il Real poi dalla partita della successiva stagione iniziò il carosello di cessioni prima in prestito poi in maniera definitiva giocò con l'Estremadura con le Spagnole con il Valladolid la Valladolid marcò per esempio nove gol nella liga però ecco un buon bottino per un ragazzo di 21 anni però ecco poi finì a Levante al Santander e giocò anche in Grecia con il Rayo Vallecano alla Ves quindi saltò di squadra in squadra e il suo nome ancora circola ancora nel calcio spagnolo perché dal 2017 è diventato il presidente dell'AFE l'associazione dei futbolisti spagnoli poi si è posto di Rubiales è tuttora a Gans tuttora in carica quindi ecco un nome che circola nel calcio spagnolo quindi qua si conclude la nostra carrellata la nostra il nostro ricordo del mondiale dell'anno 19 con questo ecco vi invitiamo a lasciarci commenti sotto qua sul nostro video youtube poi ricordatevi abbiamo anche il canale spotify il canale facebook quindi vi invitiamo a condividere questo video e a scriverci a darci il vostro like per aiutare il nostro canale a crescere grazie a tutti e adios hasta la prossima grazie a tutti